Argentina, vieni! Dai che il latte diventa freddo! Eccomi, eccomi. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Allora, hai dormito bene coi cuscini? No, mi hanno fatto venire mal di schiena. Oh, vabbè, ma perché sono le prime volte? Poi ti ci troverai bene. Sì, la mamma è esperta, devi ascoltare i suoi consigli. Sì, certo. Comunque, stasera possono venire a cena Alex e i suoi genitori? Eh, perché? Io e Alex dobbiamo parlarvi di una cosa. Oh, beh, sì, non c'è nessun problema. Potevi avvertirmi prima? Vabbè, dai, tanto li conoscete già, non devi fare niente di che, è una normale cena. Eh, va bene. Ehi, ma che cosa dovete dire? Ve lo dico dopo a scuola. Ok. Dopo a scuola? Sì, sono quasi adorabili, vi consiglio di prenderne almeno uno. Eh, io sto vedendo e chiederò ai miei genitori, magari mi lasciano. È comunque una grande responsabilità. Già, non è un gioco. Oh, certo, io mica vi obbligo. Ciao ragazzi! Oh, finalmente sono arrivati. Buongiorno. Ciao. Buongiorno ragazzi. Dai, ora ditemelo, perché sono curioso. Dire cosa? Argentina ha invitato i genitori di Alex stasera a casa nostra perché devono dire una cosa importante. E ora loro ce la diranno, vero? Sì, ora la diciamo. Dai, mettiamoci qui. Ah, io mi metto qui, allora. Ma ora mi avete incuriosito? Allora, diteci. Se volete, non sono affari nostri. Danny, sei un po' in piccione. Ok. Stasera vengono a casa i suoi genitori, voglio sapere perché. Beh, in effetti, dai, ditecelo. Ora ve lo diciamo, tanto non è mica un segreto. Vogliamo annunciare ai nostri genitori, più che altro chiedere il permesso e anche l'aiuto, di andare a vivere insieme. Eh? Ma state scherzando? Cosa? Ma che dice, Argentina? No, no, è tutto vero, vogliamo andare a vivere insieme. Ma come? Perché? Alla vostra età. Ma state a casa con i vostri genitori, vi mantengono. Ok, che Alex lavora, ma non riesce a mantenere tutti e tre. È una casa. Ormai abbiamo preso la nostra decisione. Non possiamo sempre fare affidamento sui nostri genitori. Ormai siamo maggiorenni, possiamo vivere da soli e... Anche la bambina deve crescere con due genitori, non insieme ai nonni materni e quelli paterni, vederli ogni tanto. E anche il papà non vederlo sempre. Non ha senso, crescerebbe male. Quindi andiamo a vivere insieme. Ho capito, ma siete giovani. Non c'entra niente, guardate che una volta si andava a vivere già da soli subito, eh? Ma siete sicuri? Guardate che una volta che andate lì non si può più tornare indietro. Sicurissimi. E poi comunque i nostri genitori ci verranno a trovare, eh? Non siamo soli. E poi abbiamo voi. Ah, quindi fate affidamento su di noi. No, però potete venire a trovarci. Ok? Dai, non siete contenti per noi? Ma insomma, è una notizia un po' scioccante, però... Sì, va bene. Se è quello che volete, va bene. E poi è vero, sennò la figlia crescerebbe strana. Almeno così cresce con due genitori stabili. E sì, non li vede. E anche gli amici ci sta. E lo zio? Peccato. Volevo vederlo a casa, ma... Ok. Beh, allora vi auguriamo buona fortuna, perché non so come reagiranno i vostri genitori. Già, vedendo che non abbiamo reagito così, chissà loro come reagiranno. Oh cavolo, dite che non vorranno. Oh cavolo, forse ho sbagliato. Ragazzi, non metteteci ansia. Non è ansia, è la verità. Una possibile cosa che può succedere. Vabbè, sei, però così mettete ansia. E andrà tutto bene, dai, ora andiamo in classe. Sì, forse è meglio. Oddio, speriamo vada tutto bene. Ma sì, vedrai, andrà tutto bene. Bene, lo spero fortemente. La sera. Bene, sono posta. Argentina, sei pronta? Fra poco arrivano. Ehi, che c'è? Sei pronta? Sì, sono pronta. Cos'è quella faccia? Sono preoccupata, oggi mi hanno messo ansia. Io subito ho pensato che loro dicessero di sì. E se dicessero di no? Ma no, dai, vedrai che accetteranno. Sono dei genitori bravi. Sei i nostri che i loro. Cioè, sei i suoi. Dai, e poi sei maggiorenne. Non devi ascoltare cosa dicono loro? Din, don. Sono arrivati, andiamo. Spero che Danny abbia ragione. Buonasera, prego, entrate. Buonasera, grazie ancora dell'invito. Buonasera a tutti. Ciao Danny. Ciao. Salve, che piacere vedervi. Era un po' che non ci vedevamo. Eh già, eh già. Allora, chissà cosa ci dovranno dire stasera i ragazzi. Sta tranquillata, tutto bene. Ok. Dai, sedetevi. Poco dopo. Ecco fatto. Scusi, mi ero dimenticato di prendere una sedia in più. Oh, di nulla. Grazie. Bene, ora ci possiamo sedere tutti. Eccomi qui, arrivano gli antipasti. Mmm, sembra tutto squisita. Spero non ti sei disturbata troppo. Oh no, ma io lo faccio volentieri, adoro cucinare. Allora, lo metto in centro, prendete pure quello che volete. Mmm, che bontà. Continua. Non mancate alla parte 2. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così vi arriveranno le notifiche di quando pubblico nuovi video. Lasciate like al video. Secondo voi, come continuerà? Accetteranno? Li lasceranno vivere insieme? È una buona idea andare a vivere insieme? Ah, e suggeritemi nei commenti un nome per la figlia di Argentina e Danny, Alex. E ci vediamo alla prossima parte. Ciao! Ciao!